Dalla pietra verso l'acqua Sulla pietra è stampato il tuo passato, dal primo insegnamento a quelli che la vita ogni giorno ti ha impartito. Nella rilettura di ciò che è stato scritto nascono nuove idee per affrontare la vita, nasce il futuro che ancora non è scritto, ma che si irradia da ciò che è stato fatto. Come la pietra cadendo nell'acqua quieta produce cerchi oscillanti che danno vita, così dal tuo passato riceverai l'impulso per agire e per creare il tuo futuro. Rileggi la tua pietra e lanciala nel mondo, afferra i cerchi che si spandono da essa, non farle fuggire, accarezzali fra le mani e dal tuo passato nasce il tuo domani.